Cistico 2004 inizia in questo momento il match, forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi! Palla riguanta da Cannavaro, il tocco è preciso, regala il primo corner, parte la sua traiettoria, palla dentro, vanno tutti fermi, c'è il gol del Lecce, difesa in bambolata e c'è il Lecce in vantaggio con il gol di Cesare Bovo, primo gol in seria, poi Emre, Cevanton, pericolo, Conan entra in aria, il suo tiro e va a lambire il palo, pericolo, pericolo, ancora Cevanton, carica al destro il tiro, Toldone, ci proviamo con Cruz, sulla destra, attenzione, cercano di andare, lo vanno a chiudere, palla su sinistro, scivola, vai a cambiare gomme, palla dentro, il cross non è fuori gioco, Oba è solo, attenzione Oba, il tiro cross, Murato, tutto è pronto, Emre, la pennella verso il centro dell'aria, come se li Cruz, la grande parata di Polecic, forza ragazzi! E' pronto Bobo, carica al destro il suo tiro, Toldone in corner, Rullo in profondità per Cevanton, anche tutto solo, nessuno lì, fermo a chiudere, quello va al tiro, Toldo! Subito dentro uno spazio per Martins, inventa qualcosa, chiamano due con Bobo, Martins, carica al destro, buono, finalmente un'azione in velocità! Pallone in avanti, Oba cerca di andarsene in velocità, Oba, attenzione Oba, in tre in aria, il tiro, la parata di Polecic, giocano Oba, cross, una mischia, Polecic! Inizia in questo momento il secondo tempo, forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, andiamo a vincere questa partita! Palla per Cruz, Cruz che lancia a lungo cercando Oba, uno contro uno con Abruzzese, lo punta, Oba, tiene palla, attenzione Oba, verticalizza, Oba, salta due uomini, salta il terzo, viene messo giù, calcio di punizione, incontenibile Oba quando parte! e vediamo chi si incarica della battuta, il destro pugnace di Ponciarello, la potenza di Vieri, carica Cruz, il tiro, palo, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol! Ponciarello! Forza ragazzi, 1-1 Dai che adesso andiamo a vincerla Quarto minuto, palo, palo, gol Ci mancava che faceva palo, palo fuori Guardate, palo, palo, gol E Polexic, di fronte a una giocata del genere nulla può Bravissimo, bravissimo, bravissimo Julio Riccardo Cruz Poi Conan, carica al destro Cassetti, palla a lato Conan, difesa sbilanciata, entra in area della sinistra Carica il diagonale, palla a lato Va a vuoto, c'è l'Antonio a porta vuota Palla, faccia alla porta, profondità per Oba Oba, per Bobo, carica a sinistra, alto Che bella azione Può andare al cross dal fondo Si guarda il cornerone Bravo capitano Andiamo a fare il gol del 2-1 adesso Palla dentro, primo palo e Maramiro, gol E' gol, 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 e' gol Ve l'ho detto, attenzione Maramiro Attenzione Maramiro, cosa mi ha detto? 2-1, forza ragazze, adesso andiamo a farne altri Non fermiamoci, non fermiamoci, non fermiamoci, non fermiamoci, non fermiamoci Gran gol di Maramiro Poi Lamuscì che gioca questa palla in profondità per Emre Che parte in dribbling in mezzo a tre Vince un take in un secondo Cambia con Vieri, Vieri per Oba Attenzione, buonissima, Oba Va dentro, Oba Salta tutti, il palo, Gigi ne la prende Rilanci in avanti, attenzione Palla buona, Bobo, pallonetto fuori Puoi fare il nostro, Oba Puoi scattare l'azione di rimessa Palla nello spazio per Bobo Bobo, solo, attenzione Porta vuota, attenzione Bobo Il tiro, e' solo accetto E' solo accetto Un rischio attenzione Bobo mette in movimento Emre c'è anche Savera in sovrapposizione Emre la rimette ancora dentro per Recoba Bobo ancora al tiro e la pole è alta che bella azione ragazzi e fischia la fine dell'incontro inutile il gol di Recoba Inter batte Lecce 3 a 1 Bobo Cruz Cordoba e il Re Vieri 3 a 1